c'è anche a subito sono vici solo che era l'oppio ho già ricaduto sul sogno ho portato anche se il settimo scorso quindi continuiamo per quello del mio personaggio che è uscito del 2 3 mesi fa tutto in quanto è stato fatto sì questo questo domani sono finiti i miei cosi i miei i miei esami ancora solo due cose quindi se lasciamo lasciamo ancora e leggiamo la descrizione ovvero sul forse di jean terriera dal suo animo altruista e onesto scusate volete contro contro le ingiustizie e salvare le persone in difficoltà a corso il sacrificio questo sacrificio e sarà anche possibile in questo mondo e chiuso una terza c'è che chiamato personaggio sui storie sui abiti vero da foto per ecossica insegnate se mi insegnarsi di polese per 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 questo penso se ci sono fatta la transietta non sento neanche suoni sulle sicuramente vecchio preso un microfono per il mio microfono con le cuffie e quindi cominciò col video per talo soltanto sul pistero che si intorno che ci sia un muschetta bambam bambam non hai lo dito che guardandola sul solso composto due episodi il primo qui e il secondo prossima settimana non dobbiamo cambiare ace입니다 공백이다 대피소에 공백이 나타났어 병 병아 저기 괜찮을거라고 했잖아 급급해 내가 내가 모두를 나 때문이야 내가 구해야 돼 내가 내가 가지마 Ah! Dari saranandrini guiare, non puoi. Non puoi. Si impingi dalla siano dalla nostra interventi di quello che appena successo con il mio perito. L'ho letto, quindi questo è quel senso di colpa. Credo, intuisco. Vado a vedere. L'ho letto, anche se mi torna, non è assolutamente il nostro lavoro. Eravagate la sua destrazione. Se mi stagione, vuol dire. Non è un po' che scendere. Ci sono il corretto. Non è un po' che scendere. Oggi è stato un po' che scendere. Il nostro corso è un po' che scendere. Come se stagione, non è un po' che scendere, il nostro corso è difficile. È un po' che scendere. io suon finito posso morire con il posto non si può mettere ticcio scendolo foto sotto il corpo c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è sembro ticci stili il mini al mare sono figli di papà cos'è il posto quindi cominciamo e qui sempre con lui col mouse tolto ragazzi se mi sa che vi i che cercherò le cinematiche di warframe ma quella che sembra uscite i ciumi ma il tuo d il tuo gioco 8 effettivamente è noto un sogno con cui ci troviamo il semplice fatto che la questione mandato o protagiste qui lo vedete farlo miseramente ok ok come ne faccio a cuore sono da alcuni faccio a cuore se si chiama non c'è il nome taggianto che ho proprio il gioco c'è il gioco quindi se neanche un'altra cosa ricorda cazzo cazzo un'altra volta non ho spallato un bel betto si trova delle cose con quella scena se non so non so dove posso lasciare una canzone il mettetore del spagio non si sente la testa stessi famiglia questo lì o o o E' lontano Qua sto più in tempo, evo che vuoi persona Che è in persona Sì, è un punto meraviglioso Ci metti in opposizione e non serve a niente, però ok Sembra figlio, però l'altro può essere Oh, un'esplosione A che ti ho voluto? Non mi metto un attimo a dormire E non svenire e svegliati Sono un gt, sono quello che faccio Ah In realtà, non so di niente Queste persone giri così Fanno troppo scassare C'è uno dei miei Adesso è un cartone, posso dire un anima E' il mio B Non so se lo conoscete Che sono me lo conoscete Guardatevelo E c'è il Secondo adesso C'è appunto il Nel miniserie che ha sempre sessi sviluppatori Con personagissimi a quella Che fa troppo scassare Ma io a me piace lui Poi ho fatto un piaccio Ci sono più volte di quello che ricordassi Invece Allora Questa c'è un spazio Questa non spazio E' no Andiamo avanti Se c'ho sveglio Che belle sei giorni Si sto bene case per l'intestamento non è interessante non è quello emotivo 3 mila la stessa femminile preferite la mia larga e la stessa femminile si fa fare le persone di davanti per sapere mi trovo quindi queste sono utenti si perfetto aspettiamo che apri finiamo con parlare con l'ultimo notizio e concludo il bisogno si tratta io rivedisco il fatto che chi costruirebbe l'ospedale camere ospedale i fiancolato l'obelico questo tipo dice motiva che non dovessi farlo solo ok un record puoi mandare tutto a fufare inizialmente quando il mio modo per censurare però ci siamo capiti guardo come dire ok spero che ho avuto il microfono spero non si si sentino troppo ora ci suppongo un piccolo test ora mi sento bene mi sento molto meglio perfetto ora che dico questo è ben ripreso intruso si intruso si può alzare a capire ho avuto il giorno dell'esame e prima di mezzanotte passa ciao sono Jim se in piedi dopo lo ricordare come nome finalmente un giovane con un po' di grinta molto vecezio il mio nome ben una buona collezione ah con la collezione con la collezione sono qui perchè mi viene detto accettare quello che tu puoi servire il test sai che di chi si tratta ho sentito dire che sono una visita medica stesso dialogo di tutti una cosa simile non era mai capitata per le vie dell'arma che mi è passi in mano che mi è passi in mano erano nelle braccia ok tagli non si sembra che sia il tizio ben si è più gentile con lui non si ricordo mai erzi la non so che aveva il non so che sono giocato non so che aveva detto male non so che aveva detto mai perfetto faccio coso io ragazzi lo so 11 12 minuti ragazzi poco come video ma se non mai ma guardatemi guardatemi in faccia guardate nei miei occhi dc one punch ritornerà presto è più one punch di prima